La volta precedente avevamo visto cosa succede quando si può registrare da un cellulare e ottiene un file e questo file viene poi messo all'interno di un programma, vi ho insegnato come, e poi questo programma può elaborare questo file. L'elaborazione di questo file poi ci permette di arrivare a un prodotto, insomma a un file audio che sia migliore di quello che abbiamo registrato, correzzendo certi errori, migliorando anche certe qualità. Adesso allora vediamo un po' più in dettaglio come funziona questo programma, cosa può dare, cosa si può fare, cosa si fa. Io faccio per esempio di solito con questo programma che è il programma che uso di più. Questa volta, a differenza dell'esempio che ho fatto la volta scorsa quando ho registrato con un cellulare, questa volta vi propongo il prodotto di una registrazione che ho fatto quando sono stato in vacanza, non avevo ovviamente né il computer né altre cose e ho registrato con questo registratore. Pongono due problemi, questo strumento di registrazione che sicuramente è il migliore del cellulare, ma che non è ancora l'ottimo. E poi il problema dell'ambiente dove si registra, cioè quando si registra bisognerebbe avere il più possibile un ambiente insonorizzato, un ambiente che non ha riverbero, che non ha eco, insomma un ambiente particolare, diciamo adatto a registrare se si vuole avere una registrazione buona. Allora, io ho registrato con questo strumento che permette già di tagliare le frequenze della banda più bassa, che disturbano un po' la voce, in più permette di regolare anche certe frequenze di registrazione, insomma permette di fare certe regolazioni. Ha una sua scheda audio interna e quello che registra poi lo salva in una scheda che si può poi estrarre e si può poi mettere nel computer, quindi da quella scheda il file si può poi trascinarlo nel desktop del computer, dal desktop del computer passarlo nel programma di registrazione. Adesso vi mostrerò il prodotto di questo lavoro, l'ho postato perché non è altro poi che il fedone di Platone che ho postato integralmente. Qui lavorerò su una piccola parte di questo fedone in modo tale da dimostrarvi qual è il lavoro che si fa e soprattutto cosa permette di fare questo programma. Salto volontariamente di dirvi come si fanno i vari passaggi perché voglio che capiate per adesso soltanto cosa può darvi il programma, quindi cosa vi potete aspettare da questo software che si chiama Audacity. La necessità di avere questo programma è poter fare un lavoro discreto, cioè poter arrivare ad avere dei file che siano poi usabili e che si possono quindi postare su YouTube. Inoltre mi interessava farvi vedere la differenza, perché si può anche vedere, tra il registrare con questo e il registrare col telefonino. Ci sono vantaggi e svantaggi come tutte le cose, però diciamo che questa non è ancora la soluzione migliore. Ci sono altre possibilità di registrare, per esempio ci sono quelli che registrano con la cuffietta e con il microfonino nella cuffietta inserito direttamente nella scheda del computer. Magari vedremo anche questa possibilità, cosa succede quando si registra in quel modo, che non è ancora il modo migliore di registrare, però è un modo insomma. Il modo migliore di registrare è quello di usare dei microfoni. Un buon microfono e questo, che è il Neumann. Se voi registrate però con questo microfono, con un microfono a cardioide, avete bisogno comunque di un'altra strumentazione, cioè di una scheda audio esterna oppure di un equalizzatore. Cosa con cui interfacciare il microfono, quindi collegate il microfono a una scheda audio esterna e poi la scheda audio esterna la collegate al computer. Cosa che vedremo. Questa, diciamo, quando avete una buona scheda audio e un buon microfono potete fare delle buone registrazioni, però avete bisogno anche di avere poi un ambiente adatto. Ecco, dovete avere un ambiente insonorizzato, dovete avere un ambiente che non dia troppo riverbero, in cui non ci sia troppo eco. Insomma, dovete avere un ambiente come quelli che vedete negli studi di registrazione. Bene, adesso passiamo al resto. Trascino il file che mi serve aprire e sul quale mi serve lavorare all'interno del programma Audacity, che conoscete. Il file in oggetto è un brano del Fedone di Platone. Come vedete, attualmente il file si trova nel programma. Adesso cerchiamo di vedere cosa posso fare, cosa mi serve fare per lavorare su questo file e cosa mi offre il programma. Passerò via rapidamente sui tasti, perché mi interessa in questo video farvi vedere soltanto quello che può fare il programma, cosa serve. Poi come ottenerlo ve lo spiegherò in un altro video. E soprattutto cosa serve nei programmi di montaggio che riguardano la voce, la narrazione, per quello che riguarda la musica, eccetera, in questo momento non ci interessa. Allora, quando ho un file di questo tipo all'interno di Audacity, la prima cosa che mi serve è vederlo in maniera più estesa. E allora cercherò di dilatarlo nello spazio. Poi posso anche un po' ingrandire le onde, le immagini, in modo tale da avere più una sensazione di quello che succede, di quello che è. Una prima visione. Poi posso, come vedete, far scorrere nello schermo queste immagini, questo grafico. Allora, osservo intanto la linea di base, no? E vedo, dove ho selezionato più chiaro, vedo che c'è del rumore di fondo. C'è del rumore di fondo e poi lo guardo, insomma, provo a vedere. C'è un po' dappertutto del rumore di fondo. Voi vedete qui, per esempio, no? Questo rumore di fondo, che vedo, per esempio, qui, è dovuto in parte ad artefatti, cioè in parte è legato al fatto che, diciamo, il mezzo con cui ho fatto la registrazione non è dei migliori. In parte è il fatto, come qui, che nell'ambiente esistono dei rumori. Allora, il primo problema che mi pongo è quello di capire se posso togliere almeno una parte del rumore di fondo in maniera generale, cioè dappertutto, dove si trova. Senza perdere, però, troppo della qualità. Allora cerco di andare in un luogo dove penso che può... Ecco, per esempio qui. Ecco, io seleziono questa parte e provo a togliere tutte queste forme d'onda, tutto questo rumore di fondo, in tutto il video. Per far questo uso uno degli effetti, che è la riduzione del rumore. Allora, prima elaboro il profilo di questo rumore, dopo seleziono tutta la traccia dalla quale voglio togliere il rumore. Vedete che si è selezionata tutta e a questo punto vado sempre sugli effetti, rimuzione rumore e dico ok. E lui mi fa la riduzione del rumore su tutta la traccia. Adesso vedete che questa cosa tenderà, se non proprio a sparire, a ridursi di molto. Ecco, è sparita. Eccoci, ammissi e cebete. E se non hanno mai il medesimo aspetto? Poi potrò, dove ho selezionato questa parte, per esempio, tirar via questo rumore che c'è e questo. Seleziono dove voglio tirar via e silenzio questa parte. E, diciamo, la linea di base diventa assolutamente piatta. A questo punto, se io voglio fare un lavoro fatto bene su questa traccia, devo cercare di togliere, di fare questo lavoro, di selezionare e di tirar via, tutte queste parti che sono dei fiati che vengono dopo che ho finita la parola. e che sono molto più evidenti con questo sistema di registrazione che non quando si registra con un microfono in studio. Quindi, un tempo ci vuole a tirar via tutto questo. Poi, la facciamo breve, dovrò cercare di ascoltare questa traccia e vedere dove ci sono... Se non mi sbaglio, tu e Simmia vorreste esaminare più a fondo la questione. Perché mi pare che siete spaventati come dei bambini, quasi che l'anima appena fuori dal corpo se la portasse via il vento e la disperdesse. specie poi, quando ci tocca morire, non con tempo sereno, ma in mezzo a una gambufera. E tu, assicuraci Socrate, fece Cebete sorridendo, come se noi effettivamente avessimo paura, o meglio, come se non fossimo noi ad essere spaventati. Ma quel fanciullo che è in noi. Ma quel fanciullo che è in noi. Ecco, qui ho ripetuto due volte la stessa frase. A questo punto devo selezionare e devo tagliare la parte in più. ...spaventati a quel fanciullo che è in noi. Dunque, fai in modo che questo fanciullo non abbia paura della morte come del babau. Bisognerebbe fargli ogni giorno gli incantesimi, mi dice Socrate. Bisognerebbe fargli ogni giorno gli incantesimi. Ecco, ma vedete che qui avevo intonato male la frase, l'ho reintonata, e adesso devo tirar via quello che è stato fatto male. Bisognerebbe fargli ogni giorno gli incantesimi, ammise Socrate, per liberarlo da questi timori. E dove andremo a trovarlo? Un incantatore capace per queste paure. E dove andremo a trovarlo? Un incantatore capace per queste paure. Ecco, questo, questo lavoro lo farò per tutto, per tutta la traccia audio, fino in fondo. E questa è una cosa che richiede un certo tempo. Quindi a questo punto ho pulito la linea di base. Ho fatto un lavoro cercando di tirar via quei rumori che vengono dall'ambiente. Dopodiché ho cercato di tirar via gli errori che ho fatto. Questi sono gli errori che sento quando vado a rivedere la trazza e a lavorarci una prima volta. Però poi possono capitare anche degli errori legati al fatto che leggo male una parola. Nel senso che leggo la parola sbagliata. Questo richiederebbe in realtà un secondo passaggio. Perché finché faccio questa attività, finché faccio questo lavoro sulla trazza, faccio fatica a seguire con il testo sotto. Allora, prima devo fare un lavoro di pulizia generale della trazza e di togliere gli errori grossolani, le ripetizioni, gli errori di intonazione e quindi le ripetizioni. Oppure pause troppo lunghe, troppo brevi, insomma, no. Se devo togliere una pausa troppo lunga non faccio altro che selezionare e tagliare e riduco la pausa. Successivamente dovrei fare un terzo passaggio in modo tale da controllare col testo che non ci siano errori. Nel momento in cui dovessi trovare un errore, a questo punto dovrei registrare un'altra volta. Quindi dovrei fare in modo di aggiungere una traccia e dovrei, con il microfono che ho a disposizione, registrare la cosa che ho letto male la prima volta, insomma, registrare la parola giusta al posto della sbagliata. Una volta che ho registrato la parola giusta, devo selezionarla e poi devo copiarla al posto della parola sbagliata. Devo cancellare la parola sbagliata e lasciare al suo posto quella giusta. E fin qua abbiamo fatto, abbiamo visto gli errori di correzione, gli errori di pulizia dal rumore di fondo. A questo punto mi rimane da vedere com'è la qualità audio. Posso fare qualcosa per migliorare la voce, il timbro, insomma, quello che si sente? Vediamo intanto com'è lo spettro. Rispetto alla registrazione che abbiamo fatto la volta scorsa, voi vedete che lo spettro di frequenza comprende un po' tutte le frequenze, da quelle bassissime, 50 Hz anche meno, a quelle molto alte, 20.000 Hz. Qui siamo al limite della soglia di udibilità. Quindi lo spettro ha tutte le frequenze. In genere le frequenze della mia voce hanno il massimo, diciamo la cuspide intorno ai 100-150 Hz. Nel momento in cui vedo un picco a questo livello, devo cercare di abbassarlo, di toglierlo. Cioè devo cercare in qualche modo di migliorare la voce. Allora prendiamo questo frammento e vediamo cosa succede. E non risparmiate né spese né fatiche per un tale incantatore. Questa è la qualità. Adesso provo a usare un effetto, che interviene soltanto in questo pezzettino che ho selezionato. Uso l'equalizzatore. Insomma mi devo prima preimpostare le frequenze che mi interessa tenere più alte o tenere giuste. Dopodiché abbasso le frequenze che prevalgono e che mi danno un brutto timbro. In questo caso provo a togliere le frequenze tra i 250 e i 500. Le abbasso. Vediamo cosa succede. Sentiamo ora la voce. E non risparmiate né spese né fatiche per un tale incantatore. E' già meglio rispetto a prima. Proviamo a ritornare a prima. E non risparmiate né spese né fatiche per un tale incantatore. Allora questo è un effetto importante che possiamo ottenere attraverso l'equalizzatore. Poi ognuno di noi cercherà di impostare l'equalizzatore nel modo più adatto alla sua voce. In modo tale da cercare di ottenere il massimo di miglioramento. Quindi equalizzatore come effetti da usare per sistemare il timbro, la voce, la qualità della voce. Un altro effetto che si può usare, che conviene usare, è il compressore. Cosa fa il compressore? Il compressore riduce quindi il volume dei suoni più forti e aumenta il volume dei suoni più deboli. In modo tale da riequilibrarli meglio. E' come se voi quando ascoltate la radio, diciamo quando la radio parla piano, aumentate il volume. E quando la radio aumenta di volume, voi lo abbassate. E quindi ottenete un volume più costante. Questo effetto poi si traduce in una maggior presenza del suono. Vediamo cosa succede quando io vado di queste onde. Quando io uso il compressore, ha un parametro che in generale adopero. Vedete che questa componente si è in qualche modo abbassata. Sentiamo cosa succede. E non risparmiate né spese né fatiche per un tale incantatore. Ecco. Un'altra possibilità, quando ci sono dei click che sono quei piccoli suoni, eccetera, tra gli effetti, voi trovate anche uno strumento di rimozione dei click. E non risparmiate né spese né fatiche per un tale incantatore. Ecco. Questi, diciamo, sono gli effetti che prevalentemente si usano. Il sistema con cui ho registrato già mi tagliava le frequenze più basse. Se invece io registro con un sistema che non mi taglia le frequenze più basse, che spesso sono fastidiose, vedete, ho una combinazione con la quale riesco a tagliare le frequenze più basse. E quindi, usando questa combinazione, ma qua non si vede niente perché me le aveva già tagliate, diciamo, il registratore, nel momento in cui avevo registrato il suono. Posso anche, poi, potenziare le frequenze più alte, per esempio, in questo modo, per esempio. E questo può dare più chiarezza al suono. E non risparmiate né spese né fatiche per un tale incantatore. A questo punto, se la cosa mi va bene, ovviamente io qua ho selezionato un pezzettino per farla breve, ma questa operazione la devo fare per tutto il file su cui sto lavorando. E quindi, quando ho fatto questa operazione su tutto il file, ho tolto il rumore di fondo, ho tolto i rumori vari che entrano, passando pezzettino per pezzettino, soprattutto all'interno delle pause. E quindi devo passare tutto il file in questo modo, tagliando tutti i pezzettini in più. Poi, devo ascoltare il file e tagliare tutte le cose che ho ripetuto, perché avevo sbagliato, per esempio, l'intonazione. Quindi tagliando tutte le ripetizioni che avevo fatto. Fatto questo, dovrei riascoltare il file per vedere se nella lettura, per caso, ho sbagliato qualche parola, ho letto male qualche parola, e nel caso che trovi qualche parola letta male e sbagliata, devo rileggerla e devo inserirla nel file al posto della parola sbagliata. Poi faccio questo lavoro di sistemazione, quindi uso degli effetti, soprattutto l'equalizzatore e soprattutto il compressore, questi sono due effetti fondamentali, insomma, che si possono usare, in dose discrete, in modo tale da non alterare la voce. Ci sono alcuni che invece, o anche in studio, che usano molto il compressore e che quindi creano degli effetti vocali molto particolari, insomma, questi vocioni che sentite. Insomma, se invece volete lasciare la voce più naturale, questi effetti vanno usati con moderazione, soprattutto per cercare di eliminare certi difetti, che spesso sono anche difetti del microfono. Quindi, quando voi, diciamo, a secondo del mezzo che usate per registrare, questo mezzo vi porta a certi difetti e certi artefatti. Con questo programma potete cercare di ridurre questi difetti e di ridurre questi artefatti. È difficile cancellarli del tutto. Però, alla fine, potete ottenere un risultato che ha una certa qualità. Quando avete fatto tutto questo, non fate altro che esportare il prodotto del vostro lavoro, date un nome al file, 3, e lo salvate. Lo salvate in mp3, ma poi vi spiegherò in un altro video come si usa con più particolari che è questo programma, che è un programma abbastanza complesso, bisogna farci la mano. E poi anche la qualità. La qualità del file che voi volete salvare, dell'mp3. Ovviamente, più è basso questo numero, più la qualità è scarsa. Più questo numero è alto, se arriva a 320, più la qualità è alta. In genere viene richiesta una qualità di 128, per una frequenza di 44.100 Hz, di solito. A questo punto salvate quello che avete fatto. Una volta che sapete dove ve lo salva, e questo lo impostate prima, voi trovate che vi trovate il lavoro fatto. Questo file è pronto. Non è pronto ancora per essere postato, perché voi avete qui un file audio. Quindi, se voi poi dovete farne un video per postarlo su YouTube, dovete associarci un'immagine, e quindi dovete usare un altro programma di editing video, ma del quale ne parleremo un'altra volta. Intanto, è importante che fissiate cosa potete fare con Audacity. Con Audacity, inoltre, potete anche registrare direttamente. Io adesso ho importato un file che avevo registrato, perché questo file l'avevo registrato in montagna. Ero in montagna, e avevo a disposizione questo registratore digitale, il quale non è neanche proprio scadente, ma questo può fare, non è il massimo per registrare. Questo registratore contiene anche al suo interno una scheda audio, e poi contiene una scheda che io posso, sulla quale registro, e questa scheda poi la posso inserire nel mio computer, e posso trascinare i file poi nel desktop e quindi nel programma. Quindi, in montagna, io ho registrato questa cosa, che non è altro che un pezzettino del fedone di Platone, poi insieme con tanti altri pezzetti ho composto l'intero audiolibro che comprende il fedone di Platone, che dura più di tre ore, facendo questo lavoro. Quindi, in montagna, avevo a disposizione solo questo. Ho registrato, la registrazione è stata fissata su questa scheda, questa scheda l'ho messa nel computer, e dal computer l'ho trascinata in questo programma. Su questo programma poi ho fatto questo lavoro. Alla fine ho avuto i vari file che poi ho messo insieme, sempre con questo programma, e alla fine mi ha dato come risultato il file audio dell'intero audiolibro fedone di Platone, quello che voi trovate in questo momento postato. Ovviamente la qualità della registrazione con questo strumento è relativa, ma non solo questo. Quando ho registrato in montagna ero su un ambiente che aveva molto rimbombo, in cui c'era del riverbero, e poi c'erano i cani che abbaiavano, c'erano molti rumori di fondo. Adesso qua ne avete visti pochi, ma su altri spezzoni c'erano tantissimi rumori di fondo. Quindi il lavoro è stato anche quello di togliere tutte queste cose, i cani che abbaiano, i trattori che passavano, i taglierba che andavano, e così via. Per cui tutto questo va tolto. E va tolto pezzettino per pezzettino, perché non si può selezionare un pezzo e poi togliere tutto. Se noi selezioniamo un pezzo di rumore e poi lo togliamo in tutto quanto il brano, va a finire che ci scompaiono tantissime frequenze e che proprio la qualità della voce diventa pessima. Quindi dobbiamo farlo nelle pause dove si sente di più il rumore, pezzettino per pezzettino. E questo allora succede quando registriamo con un registratore di questo tipo, che a differenza del telefonino, come avete visto, quando noi andiamo ad analizzare lo spettro delle frequenze, ci dà però l'intera gamma delle frequenze della voce. Vi ricordate che il telefonino invece tagliava tutta la gamma che andava dai 2000 Hz in poi, ai 20.000 Hz. Invece qui abbiamo l'intera gamma delle frequenze. Bene, a questo punto mi fremerai qui perché c'è materiale per andare avanti la prossima volta. Un saluto.